Se il dissesto dell'ente comunale è ormai scontato in attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare dal voto della Sisei Civica la prossima settimana, è invece difficile al momento pronosticare il futuro dell'in-house Gheras Multiservizi. I revisori dei conti hanno escluso che il dissesto del municipio possa determinare effetti per l'azienda attualmente amministrata dal manager Pietro in Ferrera. È anche vero però che le condizioni attuali non consentono di alzare il sipario sul nuovo contratto atteso da tempo ma fino ad oggi mai finalizzato. Il tema è ancora all'ordine del giorno mentre a fine dicembre scaderà la proroga tecnica autorizzata a settembre. Secondo il consigliere comunale della DC Vincenzo Cascino e lavoratori della società interamente controllata dal comune bisogna dare certezze. Non si può permettere che continuino a vivere in abilico con il timore di effetti anche catastrofici per le loro famiglie. Una sessantina di lavoratori non può andare avanti con l'ombra di un futuro incerto. Secondo Cascino tocca alla politica prendere la situazione in mano. Ritiene infatti che bisogna interloquire con la regione proponendo un'eventuale norma specifica che consenta al comune di assorbire questi lavoratori fondamentali negli uffici del municipio. Perderli, secondo il consigliere, significerebbe acquire gli effetti della crisi dell'ente che deve già rapportarsi ad un organigramma ridotto ai minimi termini. Senza gli operatori Ghelas, infatti, ritiene ancora Cascino, tanti uffici potrebbero chiudere direttamente. Nella disamina condotta all'esponente Cuffariano si richiama l'esigenza di razionalizzare le risorse. In una fase come questa, infatti, l'ente potrebbe assorbire lavoratori Ghelas che già operano per conto del municipio. Si risparmierebbero i costi ingenti del contratto e tutte le spese legate al management dell'inause e a tutti gli organi di controllo. Per il consigliere, questa è la soluzione che consentirebbe ai lavoratori di avere maggiori certezze. Quella di Cascino è una proposta piuttosto radicale in un periodo segnato dalla crisi del municipio. Prima di tutto, come conferma l'esponente di C, servirebbe un dialogo con la regione. Intorno a Ghelas non sono mai mancate indicazioni forti volte ad un rilancio che però adesso si scontrano con il dissesto e con una cura, lacrime e sangue che sarà imposta a Palazzo di Città per rimettersi in pari. Tra i primi a strutturare un progetto ampio per una nuova vita dell'azienda e i consiglieri della Commissione Sviluppo Economico che riuscirono a far approvare un atto in tal senso con priorità alla razionalizzazione dei servizi però mai concretizzato dall'amministrazione. Grazie. Grazie.